Che spettacolo il calcio. È energia allo stato puro. Inizia da piccoli, in famiglia, poi non ti molla più. Unisce le persone, perché insieme è più bello. È anche attesa, tensioni, emozione. E poi? Poi si accendono le luci e si va in scena. Ecco, tutto questo è energia. E non dura solo 90 minuti, ti accompagna tutta la vita. Quella di Estra è gas e luce per famiglie e imprese italiane. Estra. Energia al futuro.